Vengo con la presente a te, per chiederti formalmente di esentarmi d'urgenza dal comunicare con te per telefono. Io non posso battere zuccate disperate contro il primo muro che mi trova a disposizione, perché ogni volta capirai appena mollo giù il ricevitore. Perché, mia diletta, io non saprò mai separare, stracciandole, le tue parole, a parte dai tuoi gomiti, dai tuoi alici, dalle tue natiche, da tutta te, da tutto me. Sola. La tua voce mi nuoce.